Lettera aperta dei genitori della scuola media Giuseppe Catalfamo a Santa Lucia sopra Contesse. Le famiglie si sono pure autotassate, come si legge nella missiva, per sopperire la mancanza di riscaldamento e hanno pure acquistato stufe elettriche che sono state collocate nelle diverse classi. Prima dell'inizio dell'anno scolastico la dirigente del Catalfam aveva posto al comune i problemi che affliggono il plesso tra le richieste dei genitori, la mancanza di banchi, di sedie e soprattutto di un impianto di riscaldamento funzionante e adeguato alle esigenze. Secondo quanto riferito però la risposta del comune è che non avendo liquidità in cassa, personale scolastico e studenti devono arrangiarsi. La dirigente ha comunque rimosso le stufette elettriche per ragioni di prevenzione e sicurezza che non consentono l'uso. I genitori nella lettera aperta chiedono adesso a tutti gli organi interessati di chiarire la situazione e di prendere provvedimenti urgenti. Le famiglie annunciano già clamorose proteste se non riceveranno risposte entro pochi giorni.